Allora è venuta la voglia di rompere tutto, le nostre famiglie, gli armati, le chiese, i notai, i banchi di scuola, i parenti, le 128, trasformare in coraggio la rabbia dentro di noi. Tutto che saltava in aria, c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio la storia. E allora è venuto il momento di organizzarsi, di avere una linea e di unirsi intorno a un'idea. Dalle scuole, i quartieri alle fabbriche per confrontarsi e decidere insieme la lotta in assemblea. Tutto che sembrava pronto per fare la rivoluzione, ma era una tua immagine o soltanto una bella invenzione. E allora è venuto il periodo dei lunghi discorsi, ripartire da zero e occuparsi un momento di noi. Affrontare la crisi, parlare, parlare, parlare e sfogarsi e guardarsi dentro per sapere chi sei. e c'era l'orgoglio di capire e poi la certezza di una svolta come se capir la crisi voglia dire che la crisi è risolta e allora ti torna la voglia di fare un'azione ma ti sfugge di mano e si invischia ogni gesto che fai ma sulla certezza che resta è la tua confusione il vantaggio di avere coscienza di quello che sei ma il fatto di avere la coscienza che sei nella merda più totale è l'unica sostanziale differenza da un borghese normale ancora ci siamo sentiti sicuri e stravolti come riduci, laceri e stanchi, come inutili eroi le vende perdute per strada e le fasce sui volti 40 anni e siamo qui a raccontare ai nipoti che noi noi buttavamo tutti in aria c'era un senso di vittoria come se tenesse conto del coraggio la storia noi buttavamo tutti in aria c'era un senso di vittoria come se tenesse conto del coraggio la storia come se tenesse conto del coraggio la storia ma si tenesse conto del coraggio la storia noi buttavamo tutti anche da schifo beautifully we Peru we